Dalle prime previsioni quest'anno i bianchi di Romagna saranno dei vini di alta qualità. Parte la vendemmia 2019 in tutto il territorio romagnolo con alte aspettative da parte di tutti i produttori. Tornati a un calendario tradizionale, abbiamo iniziato la settimana al 26 agosto con le prime uve, pino bianco, sardonnay, pino grigio e all'inizio di settembre, la prima decada di settembre, iniziano le raccolte delle uve più tradizionali dal Merlot all'Albana, poi a seguire Trebbiano, Sangiovese e le altre varietà. Siamo in una situazione molto buona per quanto riguarda la vendemmia, anche se è difficile fare le previsioni perché ci sono ancora giorni e settimane prima di concluderla. L'uva è molto sana, il vigneto è in buone condizioni perché le piogge di maggio che avevano tanto preoccupato ma hanno costituito una buona riserva idrica per il suolo e quindi la vegetazione nei mesi estivi è stata molto abbondante. Direi che quest'anno ci aspettiamo anche se il tempo tiene una buona annata, le condizioni climatiche fino adesso sono state piacevoli, non abbiamo avuto grossi problemi di calure estive con qualche pioggia a intermittenza, quindi direi che le condizioni per avere un'annata buona ci sono. Con i bianchi secondo me ci siamo e dovrebbe essere una buona annata, anche perché stiamo avendo delle belle escursioni termiche giorno-notte, quindi questo specialmente per certe varietà semi-aromatiche, aromatiche che possiamo avere in azienda, godono sicuramente di questo tipo di clima, quindi direi che per i bianchi dovremmo essere a posto.